un buongiorno a tutti benvenuti alla quinta lezione del corso di storia greca che è incentrato finalmente sull'evento che possiamo dire che dal via alla storia perché le guerre persiane sono l'oggetto del primo libro di storia non le storie di erodoto come avevamo già visto nella prima lezione introduttiva e possiamo dire che si tratta effettivamente di un evento quasi nel senso haidegariano del termine cioè come un evento che è percepito come veramente la manifestazione di un'identità greca che si manifesta e si consolida nel suo opporsi all'invasione persiana quindi si tratta appunto di un evento epocale destinato a plasmare non solamente l'identità greca ma addirittura la stessa civiltà occidentale se qualcuno di voi si ricorda una quindicina di anni fa all'epoca dell'invasione statunitense dell'iraq dopo l'11 settembre nel 2003 venne ritirato in ballo lo scontro fra civiltà e nel punto delineare quei contorni di questo particolare conflitto fra civiltà occidentale e resto del mondo medio oriente in questi questi termini venne rispolverato appunto la già l'invasione persiana della grecia come segno di un conflitto che durava quindi da già 2500 anni di cui nel 2003 si combatteva semplicemente un nuovo capitolo quindi non c'era da stupirsi più di tanto da fare particolari discorsi pacifisti tornando però all'evento in sé vediamo cosa ci dice erodoto nel proemio alle sue storie e ci comunica di aver deciso di raccontare questi avvenimenti affinché le azioni degli uomini non si dissolvano con il tempo e le imprese grandi e meravigliose compiute dai greci e dai barbari non restino senza fama e in particolare il motivo per cui combatterono quindi già abbiamo anche due indicazioni storiografiche di fondo e cioè l'intento didascalico che è proprio della storia della storiografia antica cioè l'idea di della storia come insegnamento per i posteri cioè del tramandare gli eventi passati in modo che le generazioni future possano trarne un insegnamento ma anche il riferimento più tecnico al motivo per cui combatterono quindi alle cause cioè compito dello storico non è solo quindi descrivere raccontare i fatti ma cercare di spiegare il perché questi fatti siano avvenuti autori contemporanei al conflitto come il poeta simonide che vedremo meglio poi nella seconda guerra persiana è l'autore dell'epitaffio per i 300 spartani caduti alle termopili e il tragediografo eschilo che partecipò come testimone oculare alle battaglie alla battaglia assistente in particolare alla battaglia di salamina percepirono la guerra come un vero e proprio scontro di civiltà fra la libertà delle poleis greche e il dispotismo dall'altra parte del re persiano del gran re di persia che sottometteva terre e schiavizzava regni quindi una battaglia una guerra per la libertà e l'autonomia contro il dispotismo e la schiavitù quindi solamente l'amore per la libertà e la steno resistenza dei greci avevano impedito avrebbero impedito che si realizzasse il giorno della schiavitù cioè il giorno in cui tutto il mondo sarebbe stato sottomesso al potere dispotico del re persiano quindi vedete come anche nella percezione contemporanea vengono tirati in ballo i valori di libertà e autonomia per distinguere le due parti in campo la resistenza delle poleis contro l'invasione persiano andò quindi ad alimentare e consolidare la percezione di unità culturale etnica religiosa e per certi versi politica delle poleis greche verso l'esterno cosa vuol dire anche per certi versi politica sappiamo che il mondo greco è diviso in una mieride di città stato quindi c'è di fatto unità politica tuttavia nel opporsi all'invasore si delineano anche quelli che sono i canoni no non solo quindi dell'unità culturale etnica e religiosa dei greci ma anche quest'ideale di libertà e autonomia che era quindi soprattutto da questo momento ritenuto fattore fondamentale di ciò che è l'emicon cioè di cos'è effettivamente greco perché all'esterno di questo mondo era invece il mondo dei barbari il mondo dell'asservimento e della schiavitù venendo a come diciamo come premessa vediamo un attimo come si presentava l'impero persiano all'alba del quinto secolo avanti cristo ed è sotto il regno del re Dario primo successore di Ciro il grande che viene di fatto combattuta la prima guerra persiana del 490 avanti cristo quindi Dario era ormai un sovrano navigato perché governava ormai da più di 30 anni sotto il regno di Dario vedete anche la leggenda l'impero persiano raggiunse i 3 milioni di chilometri quadrati quindi un territorio enorme che andava dall'asia minore al caucaso fino al l'indo e all'egitto delineava di fatto quelle che poi saranno le conquiste di Alessandro Magno vedete come Dario riuscì nel suo nella sua espansione a espandere l'impero persiano fino alle coste alla rive del Danubio alle coste del mar nero quindi alla traccia greca quindi già avendo di fatto oltrepassato gli stretti e quindi in pieno territorio che si poteva già considerare europeo si trattava di un impero sovranazionale il cui governo era decentralizzato e diviso in diverse satrapie cioè le province possiamo chiamarle così dell'impero persiano venivano quindi definite satrapie il gran re delegava la propria autorità a governanti locali i satrapi incaricati del mantenimento del rapporto con il potere centrale ognuna delle 20 satrapie nelle quali si trovava diviso l'impero persiano all'alba del quinto secolo secondo erodoto era obbligata a fornire all'erario centrale 15.000 talenti d'argento all'anno quindi una somma pari a 15.000 talenti d'argento oltre a un contingente militare e qualora fosse stato necessario avrebbe dovuto provvedere agli rifornimenti per la flotta e per l'esercito Dario, l'abbiamo accennato prima, si spinse fin oltre il Danubio nella ragione dell'odierna ucraina dove mosse guerra gli sciiti che erano appunto la popolazione barbarica che abitava i territori che oggi possiamo definire della moderna ucraina erano coloro che erano una popolazione bellicosa che minacciava i confini settentrionali dell'impero persiano a cui quindi Dario muove sostanzialmente guerra verso il 500 avanti cristo la persia controllava quindi l'intero bacino orientale del Mediterraneo città e popoli del suo territorio godevano ebbene ricordarlo di una certa autonomia ed erano liberi di esprimere la propria identità culturale quindi non c'è una politica culturale accentratrice da parte dei persiani l'identità dei vari popoli che facevano parte dell'impero era quindi tollerata e consentita e mantenuta ma il problema qual era come spesso accade nella storia è un problema di soldi cioè l'esazione fiscale da parte dei persiani sottraeva risorse alle popolazioni locali il controllo persiano del territorio inoltre e questo è quello che poi farà scattare la guerra cioè la ribellione delle città greche della Ionia dell'Asia minore bloccava lo sviluppo dei commerci e la mobilità dell'uomo umana la tendenza all'espansionismo costituiva inoltre un motivo di grave preoccupazione perché sembrava quindi un'arrestata una ascesa inarrestabile un'espansione inarrestabile da parte dell'impero persiano facendo un rapido passo indietro nel 546 i persiani si annetterono il regno di lidia che corrisponde alla penisola anatolica l'attuale quindi turchia all'Asia minore che precedentemente sotto il re Creso aveva già inglobato al suo interno le città greche della costa quelle che abbiamo visto nella lezione sul movimento coloniale l'espansione delle poleis diciamo della sfera culturale delle poleis ma concedendo quindi Creso lasciava alle singole poleis greche della costa ampia autonomia e soprattutto non imponeva alcun tipo di tassazione nel 546 queste città passarono sotto il dominio persiano i nuovi dominatori mantennero al governo e laddove fu possibile favorirono l'installazione di tiranni nelle città quindi dove già c'erano al potere i tiranni vennero mantenuti e dove invece c'erano regimi diversi venne diciamo favorito l'installazione di regimi tirannici introdussero poi come di consueto nelle altre satrapie il prelievo fiscale e l'obbligo dei riformimenti militari per il grande dalla poleis dalla polis di mileto cominciò quella che è conosciuta e nominata dagli storici come la rivolta ionica dove ionica si riferisce a quelle città dell'Asia minore della Grecia che facevano appunto riferimento alla etnia ionica le cause della ribellione ai persiani però sono ancora oggi oggetto di dibattito erodoto le attribuisce al ruolo personale quindi a motivazioni esclusivamente personali di un personaggio della città di mileto di nome aristagora che avrebbe indotto la città alla ribellione però seguendo motivi squisitamente personali per questo il motivo della rivolta ionica è tuttora oggetto di dibattito perché è ovvio che la spiegazione che da erodoto una spiegazione che dà il via a una guerra così epocale un evento così epocale per l'intera grecia è una spiegazione che lascia un po la mano in bocca non sembra così soddisfacente infatti gli storici oggi ritengono che i motivi per i quali le città dell'Ionia scelsero di ribellarsi all'occupante persiano fossero il risveglio di un sentimento identitario greco che se che era in qualche modo avvilito no dalla dominazione persiana il malcontento per la tassazione e la preoccupazione come abbiamo accennato prima per le sorti del commercio marittimo che era cuore no dell'attività economica e sociale di queste città dell'Ionia nel 500 quindi aristagora dal via questa ribellione deponendo il tiranno di mileto e proclamando l'isonomia l'abbiamo visto nella scorsa lezione parlando di atene vuol dire l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge sancendo quindi di fatto la ribellione della città arrediversi nell'anno successivo il 499 aristagora consapevole di condurre una lotta più che impari per la grandezza e la potenza dell'impero persiano con cui le povere città della Ionia nulla avrebbero potuto si recò a sparta per chiedere aiuti militari quindi già allora già all'alba del quinto secolo sparta era ritenuta nel mondo greco come la prostates della grecia cioè vale a dire la protrettrice con lei la polis che doveva in qualche modo tutelare le altre città della grecia l'autonomia delle altre città della grecia quella che era la prima per potenza e la più importante quindi città della grecia tuttavia cleomene primo che anche lui abbiamo visto come colui che era intervenuto per deporre la tirannide di atene e colui che poi aveva tentato più volte di scalzare la neonata democrazia intervenendo militarmente di nuovo ad atene rifiutò di concedere aiuto già all'inizio del quinto secolo quindi era tradizione per gli spartani di non condurre a meno di eventi eccezionali spedizioni militari troppo distanti dal pelo ponneso quindi incassato il rifiuto di sparta di mandare aiuti allora si rivolse ad atene che erodoto che però l'abbiamo da detto nella prima lezione introduttiva era di parte nel senso che lui fa parte quando scrive e soprattutto legge le guerre persiane le sue storie lo fa ad atene e fa parte dell'elite periclea di atene quindi anche questa frase dobbiamo un attimo prenderla con le molle ma erodoto definisce già atene la più potente fra le altre città della grecia quindi quella che tendenzialmente era poteva essere considerata la seconda insieme a sparta ricordiamo anche che erodoto svolge la sua attività di scrittore in quel periodo fra le guerre persiane lo scoppio della guerra del pelo ponneso che vede le due superpotenze di atene e sparta ormai delineate a spartirsi l'intero mondo greco quindi è una frase che potrebbe essere diciamo vittima di una proiezione retrodatata di qualcosa che sarebbe successo invece nei decenni successivi ad atene aristagone non ottiene un rifiuto come sparta ma ottiene il supporto di venti navi con altre cinque fornite dalla poleis dalla polis di eretria che stava sull'isola di eubea l'intervento tenese fu ottenuto facendo leva sulla comune origine ionica dei cittadini di mileto tuttavia secondo erodoto aristagone in realtà ingannò l'assemblea tenese presentando i fatti e soprattutto i rischi come assolutamente non così gravi anzi facendo paventare l'assemblea con della città di atene una non solo una rapida vittoria ma anche un facile guadagno cioè che ci fosse da ricavarne un bottino per la città dalla vittoria contro i parsiani questo facendo dicendo queste cose si sarebbe garantito l'appoggio dell'elite atenese e successivamente avrebbe avuto un voto favorevole da parte dell'assemblea alla ribellione di mileto si aggiunsero successivamente a stretto giro di boa tutte le altre città greche d'asia riunite in una lega che aveva sede nel santuario di pagnonion che sta nella asia minore nella costa meridionale dell'asia minore vicino efeso la coalizione ottenne anche inizialmente delle vittorie grazie alle quali riuscì addirittura spingersi verso la capitale della saterapia di lidia vale a dire la città della penisola anatolica più o meno verso il centro della penisola anatolica la città di sardi tuttavia nel 497 possiamo immaginare per una naturale ritardo di reazione da parte di un impero così vasto come l'impero persiano che probabilmente per mettersi in moto avrebbe avuto bisogno di più tempo nel 497 infatti inizia la riscossa persiana che riguadagna facilmente le posizioni perdute e costringe aristagora alla fuga in traccia dove poi aristagora muore e siamo inizialmente nel 497 tre anni dopo i persiani avevano ormai saldamente ripreso il controllo della situazione e alcune città greche prese d'assedio conclusero di fatto una pace separata con il gran re quindi rompendo il fronte comune della lega del pagnonio i greci furono sconfitti poi nella battaglia navale di lade nelle acque di fronte a mileto e subirono la defezione di samo e di altri alleati quindi rimanendo sempre più isolati mileto venne presa e il santuario di apollo dato le fiamme gli abitanti deportati sul golfo persico quindi il 494 possiamo considerarlo come l'anno conclusivo di questa di questo tentativo di ribellione tentativo fallito di ribellione delle città greche d'asia minore all'impero persiano tuttavia ad atene questo avvenimento cioè questa questo trattamento così duro riservato alla città di mileto con il santuario principale della città dato alle fiamme e gli abitanti addirittura deportati sul golfo persico provocò ad atene grandissimo scalpore quasi uno shock quasi un terrore il tragediografo frinico che mise in scena la tragedia dal titolo la presa di mileto venne addirittura pensate multato dalla città per aver traumatizzato i cittadini quindi scene di panico d'atene perché evidentemente si pensa si teme che l'espansione dell'impero persiano volta così travolta la ribellione ionica possa riprendere possa in qualche modo vendicarsi di questa ribellione attaccando direttamente la grecia erodoto è fortemente critico verso la rivolta della ionia ionia di cui lui è originario giudicandola come la causa delle guerre persiane quindi facendoci capire che sarebbe stato meglio per lui se le città avessero accettato serenamente la dominazione persiana e avessero evitato di provocare questo effetto domino che poi avrebbe travolto l'intera grecia è tuttavia vero come notano gli storici che già prima della ribellione della ribellione delle città Dario aveva oltrepassato l'Egeo e quindi già i piedi in Europa gli aveva messi lasciando uomini e presidi militari in traccia e nell'esponto quindi a controllare gli stretti quindi ciò testimonierebbe che l'invasione persiana della grecia non fosse in realtà una vendetta per le città della ionia ma che fosse già in qualche modo nei piani e nelle strategie di un impero che effettivamente aveva fatto dell'espansionismo in tutto il secolo precedente e suo diciamo cavallo di battaglia ed eccoci quindi alla prima guerra persiana quando poi riascolterete la lezione di consiglio di per soffermarvi e poi ritornare indietro sulla cartina che ci indica le due guerre persiane quindi è valida per entrambe quindi ci sono le le battaglie principali nonché i tragitti seguiti dalle guerre vedete nella prima guerra sarà un tragitto marittimo che attraverserà le cicla di mentre nella seconda sarà una navigazione di cabotaggio lungo le coste dell'asia minore con l'esercito che procede di pari passo il taglio con le barche il guado degli stretti sul ponte di barche il taglio del monte atos e così via fino a scendere verso la grecia ma andando andando con ordine vediamo la prima guerra persiana quindi se data completamente la rivolta ionica dario si dedicò immediatamente a organizzare una spedizione per sottomettere la grecia già nel 492 il satrapo mardonio fu inviato con un contingente militare in traccia dove tuttavia in questa occasione venne sconfitto dai traci bigi quindi una popolazione della traccia i traci erano praticamente barbari considerati dai greci alla stessa stregua dei barbari mentre nel 492 la flotta naufragava al largo del monte atos quindi nel mare egeo settentrionale dove quindi la flotta era stata travolta da una tempesta quindi noi consideriamo due guerre persiane cioè le due invasioni del 490 e del 480 ma in realtà perché nel 492 la prima il primo tentativo di invasione venne non andò a buon fine quindi non arrivò neanche perché l'esercito di terra venne sconfitto e la flotta naufragò altri preparativi furono fatti nel 491 quindi immediatamente l'anno successivo dario non desiste e raccoglie inizia a raccogliere le forze in cilicia un'altra regione dell'asia minore nel frattempo ambasciatori del re furono inviati in tutte le città le poleis della grecia con la richiesta di terra e acqua vale a dire quindi richiedendo attraverso questi simboli della terra e dell'acqua la sottomissione delle poleis cioè era una sostanzialmente atto che ogni città faceva di sottomissione al gran re cioè dicendo caro re noi ti doniamo la nostra terra e la nostra acqua quindi di fatto noi stessi molte città oltretutto temendo l'invasione persiana conoscendo la grandezza e la potenza dell'impero persiano accettarono di pagare questo tributo simbolico ad esempio tutti gli abitanti delle isole ma anche secondo erodoto molte poleis del continente greco accettarono di sottomettersi ai persiani chi rifiutò atene e sparta che invece opposero un netto rifiuto addirittura uccidendo gli ambasciatori del re non soltanto perché gli ateniesi ottennero un intervento militare del re di sparta cleomene primo contro l'isola di egina che stava nel golfo saronico quindi nel golfo a sud di fronte all'attica a sud di atene perché erano stati colpevoli di essersi sottomessi alla persia in realtà gli storici ritengono che questa richiesta di punizione così repentina così violenta nei confronti dell'isola laddove invece altre altre polei se erano rimaste avevano accettato ma non avevano subito questa sorta di punizione fosse perché atene in realtà aveva voleva espandere la propria influenza sull'isola nel 490 con il pretesto poi di punire le poleis di atene ed eretria che erano state colpevoli ce lo ricordiamo dieci anni prima di aver appoggiato con un contingente militare quindi di aver fornito armi per combattere persiani e sostenerlo di volta ionica prese avvio una spedizione militare contro la grecia quindi questa qua è quella che noi conosciamo come prima guerra persiana quindi la giustificazione che l'impero persiano adduce per questa invasione è la punizione che atene ed eretria quindi non tanto la mancata consegna di terra e acqua ma la punizione che atene ed eretria meritano per gli eventi di dieci anni prima l'obiettivo quindi era quello di estender il controllo della persia sul leggeo una flotta quindi 300 navi persiane punto inizialmente dall'asia minore alle isole cicladi distruggendo la polis di naso che è una di queste isole successivamente non puntarono verso atene ma contro l'isola eubea a nord dell'attica dove distrussero la povera città di eretria quella che purtroppo si è resa colpevole della di aver fornito addirittura cinque navi da qui i persiani sbarcaro agevolmente in attica perché di fatto l'isola eubea è attaccata all'attica e nella località di maratona che come ovviamente ci suggerisce la stessa disciplina sportiva che da qui tra ispirazione era a circa 40 chilometri da atene in particolare a 40 chilometri a nord di atene la gara di maratona ovviamente oggi di 42 chilometri e 195 metri che si suppone fossero la distanza esatta che separava maratona dal centro di atene l'esercito di terra contava almeno 20.000 uomini sono cifre veramente molto distanti da quelle che poi erodoto racconterà di un milione di uomini che invasero la grecia invece nel 480 20.000 uomini quindi che potevano contare attenzione su chi sui suggerimenti strategici niente po po di meno che di ippia l'ex tiranno di atene che evidentemente mirava e aveva strappato ai persiani l'accordo che una volta vinta la città lui sarebbe potuto tornare ad esercitare avrebbero quindi deposto la democrazia e lui sarebbe potuto tornare ad esercitare la tirannide ora questo rientra in quel diciamo aspetto politico di gestione dell'impero persiano che abbiamo visto prima nel quale abbiamo detto che nelle diverse città stato greche dell'asia minore i tiranni favorirono i tiranni del potere e i persiani favorirono i tiranni del potere e da dove invece c'erano regimi diversi favorirono la salita al potere di nuovi tiranni tuttavia milziade membro della nobile famiglia atenese dei filaidi era uno dei cosiddetti eupatridi no quelli che abbiamo visto l'altra volta delle antiche famiglie aristocratiche di atene che era stato eletto stratego dall'assemblea nel ordinamento ormai democratico della città convinse gli atenesi che non avrebbero dovuto cercare di resistere a serragliati nelle mura della città ma sarebbero dovuti uscire facendosi addirittura incontro al nemico l'araldo filippide venne inviato a chiedere aiuto agli spartani i quali tuttavia per motivi religiosi dal momento che non era un periodo dell'anno cui agli spartani era evidentemente un pretesto ma sulla carta non era un periodo in cui consentito perché c'erano da celebrare delle feste religiose che impedivano al popolo spartano di muoversi in armi rifiutano erano le feste carnee quindi non potevano partecipare il contingente spartano di 2000 uomini partì appena possibile ma giunse infatti solamente a battaglia conclusa quindi se la dovettero vedere gli atenesi da soli con una forza di terra che non che ammontava circa 10.000 uomini cui si aggiungevano mille platesi cioè abitanti di platea una piccola cittadina al confine fra lattica e la beozia che da sempre erano stati fedeli alleati degli atenesi la sproporzione in campo quindi con di fatto un esercito che era il doppio dell'altro bloccava gli strateghi atenesi che non volevano timorosi non volevano attaccare battaglia ma milziade riuscì ancora una volta a convincere i colleghi ricordiamo che gli sarteghi erano nove eletti ogni anno li convinse ad attaccare per primi erodoto nel sesto libro attribuisce a milziade un discorso motivazionale fatto da milziade all'esercito che insisteva sulla necessità di combattere per la libertà contro la sottomissione e riportato da erodoto dice oggi infatti gli atenesi affrontano il pericolo più grande da quando esistono se cedono i pansiani è già deciso cosa subiranno dopo essere stati consegnati a ippia ma se la città prevale è in grado questo vedete come è l'elaborazione di un discorso di milziade fatta col senno di poi da parte di erodoto perché milziade è praticamente profetico dicendo che se la città dovesse prevalere sarebbe in grado di diventare la prima delle città greche se vieni del mio parere dice inizia di in conclusione la tua patria sarà libera e la città sarà la prima della grecia quindi ciò che col senno di poi erodoto vuol far emergere che la vittoria contro i persiani avrebbe portato atene al ruolo di prima città della grecia come di fatto poi avvenne nel cinquantennio successivo quantomeno in contrasto con la potenza spartana ecco qui la ricostruzione della battaglia vedete come la flotta persiana era sbarcata dall'isola eubea sulla nella baia di martona e l'esercito quindi milziade aveva suggerito agli atenesi di uscire dalla città e farsi incontro alla all'esercito prima che di fatto potesse uscire dalla zona più vicina al mare che quindi prima che potesse dilagare verso la città di atene quindi chiudendolo con le spalle al mare quindi l'esercito greco molto forte sulle ali ma più debole al centro cosa fece perché milziade dispose l'esercito in modo che agli spartani fosse diciamo sembrasse una più lunga schiera di soldati tuttavia senza che i persiani potessero scorgere le file in profondità dell'esercito era un esercito che era stato volutamente indebolito al centro per concentrare le forze sulle ali perché perché la mossa di milziare era quella di sfondare ai lati quindi di cedere al centro ma di sfondare i lati girando circondando l'armata persiana che a quel punto sarebbe stata costretta a ritornare sulle navi e a ritirarsi secondo la tradizione tramandata da erodoto le perdite per i persiani ammontarono a 6.400 uomini quindi gli altri circa 13.500 uomini ripararono sulle navi e fuggirono mentre per i greci vi furono solo probabilmente in un numero che è esagerato per ribasso 192 caduti sedù seppelliti i cosiddetti maratonomachi coloro che combatterono a maratona sepolti nel cosiddetto tumulo di maratona quindi nel luogo che divenne praticamente oggetto di culto per i persiani vedete qua vi ho riportato la cosiddetta stele dei combattenti di maratona che è stata ritrovata nella villa di erode attico intellettuale di epoca antica è stata ritrovata di epoca ellenistica è stata ritrovata nel peloponneso che riporta quindi le iscrizioni dei combattenti di maratona i superstiti persiani quindi ripararono sulla flotta sulle navi con l'intenzione però di attaccare quindi non desistendo ma con l'intenzione di attaccare a questo punto direttamente la città di Atene di amare forse contando che la parte filotirannica di Atene quindi la parte più aristocratica della città si sarebbe ribellata una volta quindi avrebbe deposto lei stessa la democrazia e aperto le porte ai persiani una volta che avesse visto quindi l'esercito persiano pronto ad attaccare direttamente la città tuttavia l'attacco fu impedito da un pronto ritorno rientro in città di Milziade con l'esercito da maratona quindi tuttavia la guerra la prima guerra persiana che così si conclude in cui la battaglia quindi fondamentale è quella di maratona va però considerato come un successo parziale perché Atene aveva sì resistito ma Eretria era stata distrutta, Nasso e le Cicladi erano state conquistate e il controllo persiano sul Leggeo era stato notevolmente steso per i greci tuttavia la vittoria di maratona fu sentita come un evento eccezionale perché l'appassionata volontà di difendere la libertà aveva potuto superare la sproporzione delle forze in campo quindi una superiorità morale che si era tradotta in una superiorità pratica sul campo di battaglia e noi cittadini liberi combattiamo e vinciamo anche se dobbiamo affrontare un esercito che è il doppio di noi ma è composto da schiavi quindi in sede panellenica Atene poter da questo momento in avanti presentarsi con un nuovo prestigio fondamento e giustificazione, badate bene, legittimazione delle sue pretese egemoniche successive la generazione dei combattenti di maratona diventerà quindi il modello sociale e politico di riferimento delle generazioni successive ci vediamo alla prossima lezione con il racconto della seconda guerra persiana